Leonardo Silva Revisore Voglio chiedere un favore a tutte le donne qui presenti in sala. Alzate la mano se avete mai subito una discriminazione sul lavoro. Se magari durante un colloquio vi hanno chiesto se avete figli o se avevate intenzione di averne. Se magari avete mai visto il vostro collega maschio ricevere quel bonus o quella promozione, magari anche se era meno bravo di voi. O se qualcuno vi ha mai fatto qualche battuta un po' fastidiosa, sessista. O magari vi ha anche mai messo la mano da qualche parte. Alzatevi la mano. Alzate la mano se vi è mai successo. Grazie. Adesso, alzate la mano se qualcuno vi ha mai insultato per il vostro aspetto fisico. Se vi ha mai detto brutte, grasse, troppo magre, vecchie. Oppure se vi siete mai sentite insicure del vostro corpo. Magari vi siete vergognate di andare al mare col costume. Alzate la mano. Grazie. Adesso, alzate la mano se a voi, a una vostra amica o a una donna che conoscete. Ha mai subito una qualsiasi forma di violenza. Se magari camminando per strada è stata seguita da qualcuno. Se è stata toccata senza la sua volontà. Se ha subito violenza fisica, psicologica, sessuale. Se ha mai subito un tentativo di stupro o è stata stuprata. O se è stata picchiata. Alzate la mano. Grazie. Adesso vi chiedo se avete alzato la mano almeno una volta. Alzatevi in piedi. Al mio tre. Uno, due, tre. Alzatevi. Siamo in tante. Potete risedervi, grazie. Adesso vi do qualche dato. Discriminazioni sul lavoro. Meno di una donna su due è occupata. Il 50% ha un contratto part time. La differenza salariale è del 12%. Solo il 28% dei manager sono donna. Il 9% ha subito molestie o ricatti sessuali sul lavoro. Ci vorranno almeno 270 anni per eliminare il gender gap a livello globale. Body shaming. La metà delle donne subisce insulti per il proprio aspetto fisico. L'85% delle donne tra i 18 e i 24 anni si sente insicura del proprio corpo. Il 96% delle persone che soffrono di disturbi alimentari sono donne. Violenza di genere. Il 40% delle donne ha subito una forma di violenza fisica o sessuale. Il 6% ha subito uno stupro o tentato stupro. Quasi 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito una forma di violenza. Ogni tre giorni una donna viene uccisa. Come mi fanno sentire questi dati? Frustrate? Indignate? Magari un po' arrabbiate? Ebbene, non vi potete arrabbiare. E vi spiego il perché. Questa è la propaganda che hanno fatto agli inizi del Novecento contro le suffragette. Le donne che chiedevano il diritto di voto. Un diritto sacrosanto. L'origine è lo sviluppo delle suffragette. A 15 anni un tenero animaletto. A 20 anni una civettuola. A 40 anni non è ancora sposata. Una zitella. A 50 anni diventa una suffragetta. Una donna che chiede il diritto di voto. Una donna che vuole farsi rispettare. Nessuno mi ama. Nessuno mi vuole. Quindi diventerò una suffragetta. Una donna che non vale niente, che nessuno vuole. Vogliamo il voto, ma sono brutta, cattiva, orrenda. Faccio schifo. Mia mamma è una suffragetta, il bambino che piange per insinuare quel senso di colpa delle donne che abbandonano i loro figli se vogliono qualcosa di più. Non sposate le suffragette voi uomini. Altrimenti vi faranno fare i lavori di casa. Lasciate le donne che vogliono far sentire la propria voce. Che vogliono far rispettare i propri diritti. Le suffragette sono cattive. Picchiano i poveri uomini. Perché una donna che vuole farsi rispettare è cattiva. Questo è quello che farei a una suffragetta. La torturerei. Se una donna che si lamenta, tua moglie si lamenta, usa questo aggeggio. Falla stare zitta. Alla fine, la pace. Tagliamo la lingua alle donne. Facciamole stare zitte. Togliamogli la loro voce. Questo accadeva agli inizi del Novecento, in Inghilterra. Torniamo in Italia al tempo del fascismo. Queste sono cartelle cliniche del manicomio di Sant'Antonio Abate a Teramo. Vi dico i sintomi per cui le donne venivano chiuse in manicomi dell'epoca, dove di fatto venivano torturate. Loquace. Una donna che parlava veniva messa in manicomio. Nervosa. Irritabile. Se una donna si arrabbia, viene messa in manicomio. Insolente. Irriverente. Indocile. Una donna che non è docile e che non subisce tutto ciò che l'uomo le fa, viene messa in manicomio. Ebbene, vi racconto una storia. Io adoro passeggiare, soprattutto la sera dopo cena. Abitavo a Milano qualche anno fa e, come ogni sera, era estate e sono uscita a farmi la passeggiata. ero da sola, in pieno centro, in una zona tranquilla. A un certo punto arriva un uomo, mi prende, mi spinge addosso al muro e tenta di fare sesso con me, ovviamente senza il mio consenso. Io ho cominciato a urlare, fortunatamente mi sono divincolata e sono riuscita a scappare via. Immaginate come mi sono sentita. Non ce la facevo più. Anche perché subivo questo tipo di molestie di ogni tipo, ma tutti i giorni da quando mi ricordo di essere bambina. Ho chiamato una mia amica per sfogarmi. Sono stata un'ora al telefono. Un'ora in cui le ho detto tutto. Chiuso la telefonata, non mi sono sentita bene. Ero ancora arrabbiata. Avevo anche provato a denunciare altri episodi. Non era successo niente. Ho detto, qui, anche se io mi lamento con le mie amiche, le cose non cambieranno. Domani uscirò di casa. Avrò ancora paura che qualcosa mi potrà accadere. Sono tornata a casa quella sera. Io non sono una tipa da social. Però mi è venuto spontaneo di aprire una pagina su Facebook. L'ho chiamata di getto a Eva Voice. Io ho una voce. Perché era quello che io volevo dire al mondo intero. Volevo dire, noi donne abbiamo una voce. Perché ci volete zittire? Perché non possiamo lamentarci? Perché non possiamo dire no a un uomo che ci viene a molestare? Quella pagina ho continuato a scrivere tutti i giorni, a raccontare storie di donne. Un sacco di donne hanno incominciato a seguirmi. Un sacco di donne hanno incominciato a scrivermi, a raccontarmi le loro storie. Un sacco di donne hanno incominciato a chiedermi aiuto. Un sacco di donne hanno incominciato a dirmi che loro volevano aiutarmi per aiutare altre donne. E così abbiamo costruito una grande comunità di donne che si aiutano a vicenda, che si danno forza, che si danno coraggio. E io da tre anni a questa parte dico tutti i giorni alle donne di avere il coraggio di far sentire la propria voce. Una delle esperienze più belle che mi è successo è stata l'anno scorso. Una giovane donna di vent'anni mi ha raccontato la sua storia e mi ha raccontato che lei tutte le domeniche, da quando era bambina, andava al mare e prendeva sempre lo stesso autobus. In quest'autobus c'era uno di quei vecchi bovosi, credo che tutti noi abbiamo avuto a che fare, e molestava tutte le ragazzine. Tutte le domeniche, nello stesso autobus. Tutte lo vedevano, tutte lo conoscevano, nessuno gli ha mai detto niente. Passano gli anni, lei scopre la mia pagina, ascolta quello che io le dico. Tutti i giorni, donne, usate la vostra voce, fatevi rispettare. Quella domenica ha visto quell'uomo che ha messo le mani adesso a una ragazzina. Si è rivista lei. Ha visto che nessuno parlava e lei quel giorno ha avuto il coraggio di usare la sua voce. L'ha insultato, gli hanno detto di ogni, e ha fatto bene sempre troppo poco. Lui si è vergognato, è sceso alla fermata dopo dell'autobus e non si è più fatto vedere. Adesso immaginate se ogni donna facesse sentire la propria voce ogni volta che vede o che subisce una molestia, un sopruso, una discriminazione per se stessa e per le altre donne. Se lo facessimo tutte, tutti i giorni, pensate cosa potrebbe succedere. Non potremmo effettivamente cambiare il mondo? Gli uomini che molestano le donne non potrebbero iniziare a vergognarsi loro e non noi a stare zitte? Oggi sono qui per dirvi what now? Questo io voglio che accada nel mondo intero per le donne. voglio che le donne abbiano il coraggio di far sentire la propria voce. Voglio che abbiano il coraggio di capire quanto forte può essere un no, quanto forte può essere un basta, quanto forte può essere io non voglio o anche io merito al lavoro, io merito quella promozione. No, non voglio che tu mi tocca. No, lasciami stare. Quanto forte potrebbe essere quando noi tutte facciamo questa cosa? Quindi oggi voglio che voi vi alzate in piedi, fate un gesto di forza, un pugno, quello che volete e voglio che dite a voi stessi e al mondo intero io ho una voce. Al mio tre alzatevi in piedi. Uno, due, tre. Io ho una voce! Io ho una voce! Grazie. Grazie a tutti!